...del motocross se la godono in un sol giro del loro folle carosello. Siamo a Imola per la quarta prova del campionato mondiale. In gara i migliori specialisti europei, gli unici motorizzati che non sentano il bisogno di autostrade e di asfalto. Loro la strada la ignorano e a volte volano addirittura staccandosi dal suolo come goffi uccellacci che imparino soltanto ora a volare. Grazie a tutti.